La speranza del vaccino anti-covid tutto italiano passa dalla provincia Bat. Da oggi comincia la fase 2 di sperimentazione della dose emessa a punto da Reitera e vedrà protagonisti 60 candidati scelti su base volontaria nella sesta provincia pugliese, 900 invece cittadini volontari che si sottoporranno la somministrazione in tutta Italia. Un momento importante e una tappa fondamentale verso una tipologia di vaccino che potrebbe essere disponibile per la campagna vaccinale italiana già da metà anno, ovvero in estate, e che vedrà la somministrazione di una singola dose già sufficiente per la produzione degli anticorpi necessari a contenere il contagio del virus. Il sito scelto per la somministrazione sperimentale nella Bat è l'ospedale Covid di Biceglie. Questa è veramente un passaggio importante perché si tratta anzitutto di un vaccino interamente italiano e in secondo luogo un vaccino estremamente promettente, sia per la sicurezza sia per l'efficacia, perché ha dimostrato nella fase 1 di essere sicuro ed altamente immunogeno e anche della possibilità, se verificata sul campo, di somministrazione in un'unica dose. Quindi le aspettative sono davvero importanti. La ricerca dei volontari per la sperimentazione è ancora in corso. Sino al 2 aprile sarà possibile prenotarsi alla ASLBT per sottoporsi al trattamento. Intanto, secondo il dottor Sergio Carbonara, direttore dell'Unità Operativa Malattie Infettive dell'ospedale di Biceglie, la situazione resta critica, soprattutto a causa della maggior incidenza portata dalle varianti del Covid-19 e che ha determinato un forte aumento dei casi e quindi dei ricoveri. Allo stato attuale, spiega il dottor Carbonara, l'unica speranza resta il vaccino. Adesso ci troviamo veramente in una situazione drammatica. L'aspettativa e la speranza che congiuntamente le misure di contenimento individuale e collettivo, vedi la zona rossa, unitamente all'aumento della campagna vaccinale dei vaccini somministrati, veramente consenta un'inversione di rotta.